Scusate un po' compagni, ma lo sai che in Italia c'è gente ancora che pensa che Berlusconi debba tornare al governo? Non è un po' strano? No, non credo. Come no? Come no? A parte che non torna, ma comunque sono pochi quelli che lo vogliono. Proprio questi berlusconiani, questi disfrazziati, ignoranti, analfabeti, e quelli sono forse quelli... Sì, perché tutti quelli berlusconiani sono tutti ignoranti, analfabeti, dice lei? Credo di sì. Sì, eh? Cioè chi ha votato Berlusconi è un ignorante, un analfabeto, uno che non guarda... Credo di sì. Sì, addirittura. Non è certo uno informato. Io qualche volta ho votato Berlusconi, che devo fare? Lei non sa scrivere? Io sì, fino a prova contraria so scrivere. Leggere e scrivere? Leggere e scrivere sì. Poco, con lentezza o velocemente? Beh, insomma, me la sono sempre cavata, con buoni voti, eccetera. Lei dice che proprio ci deve essere qualche difetto di fondo se qualche volta votato Berlusconi. Sì, sì, credo di sì. Qualche difetto di fondo ci deve essere. Anche qualche problema mentale magari. Sui congiuntivi lei ha sbagliato spessissimo. Eh, anche qualche problema mentale uno deve avere, dice lei, per votare Berlusconi. Anche qualche? Problema mentale magari, per votare Berlusconi. No, no, mentale, non sono proprio debito. Eh, e la Sant'Anchea le piace? È molto battagliere la Sant'Anchea. No, la Sant'Anchea io la brucierei viva. Addirittura? Sì. Piazza della Signoria.